Mi stai forse scaricando? Aspetta, ferma, ferma. Questo è un momento fondamentale per lo sviluppo della storia. Oriol vuole fare il nuotatore professionista. È bello, intelligente e mi è sempre piaciuto da impazzire. Se non che mi ha appena mollato. È incredibile, Oriol, non posso crederci! Dato che non capisco quello che mi sta succedendo e non voglio angosciarmi troppo, ho deciso di affrontare il problema e scrivere le mie personali storie su un tema che da tempo mi ronda per la testa. Che fai? Niente. Grazie. 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 Grazie.